Esercizio numero 2 dello stesso file di prima. Generatore reale di forza elettromotrice 24V e resistenza interna 1,8 ohm. Alimenta un parallelo di due resistenze di cui è nota solo la prima 66 ohm. La corrente erogata dal generatore è 3,2A. Da calcolare la differenza di potenziale ai capi del parallelo, il valore della resistenza R2 e la corrente che circola in R1. Per prima cosa schematizziamo il parallelo delle due resistenze come un'unica resistenza equivalente chiamata R-parallelo. Questa resistenza è equivalente nel senso che, sostituendola alle due resistenze vere, non altera la corrente che passa nel circuito, cioè il generatore continuerà a erogare sempre 3,2A e non altera neanche quindi la differenza di potenziale ai capi del parallelo. E' come se il circuito non si accorgesse della sostituzione delle due resistenze con una sola. Disegniamo il grafico intuitivo della seconda legge di Kirchhoff, cioè la legge dei rami. Qui, infatti, in questo circuito abbiamo un unico ramo, ormai. Infatti ricordiamo che un ramo è un tratto di circuito percorso tutto dalla stessa intensità di corrente. Prima non c'erano due rami, cioè non era un solo ramo ma erano due perché le correnti che scorrono in R1 e R2 sono diverse, ma con la resistenza equivalente parallelo il ramo diventa unico perché c'è un'unica corrente che scorre. Il ramo sarebbe questo, generatore, resistenza interna, resistenza parallela. Ecco i tre elementi. Quindi percorrendo questo unico ramo, una maglia, in senso orario, in senso della corrente, incontriamo prima il generatore che innalza la tensione fino a 24V, da 0 a 24V, poi incontriamo una prima caduta di tensione ai capi della resistenza interna e una seconda caduta di tensione ai capi della resistenza parallela. Il generatore è l'elemento attivo del circuito, un po' come uno sciatore che va su in montagna con uno ski lift e viene portato ad alta quota. Le resistenze sono gli elementi passivi o dissipativi e corrispondono alle discese dello sciatore. Queste discese sono le cadute di tensione che valgono ΔVr e ΔV parallelo, si calcolano con la legge di Ohm, R piccola I, R parallelo I. L'elemento attivo, che è il generatore, serve proprio a compensare queste due cadute di tensione, come è scritto qua. Quindi la forza elettromotrice da 24V che eroga il generatore deve essere uguale alla somma di queste due cadute di tensione, ΔVr più ΔV parallelo. Raccogliendo la corrente elettrica si può anche scrivere la formula come R totale per I, essendo R totale la somma di tutte le resistenze incontrate dalla corrente elettrica, quindi R interna più R parallela. Torniamo alla domanda del problema, che è ΔV parallela, la differenza di potenziale tra questi due punti A e B. Naturalmente ricordiamo che il potenziale più alto è in A, il valore più basso è in B, e che la corrente elettrica, convenzionalmente, flusso di cariche immaginarie positive, scende sempre le differenze di potenziale, quindi scende sempre giù lungo le discese. Perciò la differenza di potenziale è VA-VB, A potenziale maggiore, B potenziale minore, differenza di potenziale, e come si vede anche da qua, o anche dall'altro disegno, questa differenza di potenziale è data da 24V, cioè F, meno la caduta ai capi della resistenza interna, si vede anche da qua, perché ΔV parallelo è la seconda caduta di tensione, sulla R parallelo, è data da F, questa salita di tensione, meno la caduta sulla resistenza interna, quindi F-RI, come scritto qui. Basta sostituire i numeri, poiché conosciamo la forza elettromotrice, la resistenza interna, il generatore e la corrente, e troviamo 18,2V, questa caduta di tensione, ai capi della resistenza parallela.